e' certo e pur c'è stato un rumore rumore di che tipo shh io voglio senti cazzo via 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 non so ma mi ha spaventato un bestia acah Ma siete che coni per il culo o cosa? No 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 c'è qualcuno da qualche parte Penso che sia nella cosa rossa La casa? Sì io salgo sulla montagna perché c'ho il long Ah va bene io... Tu sei lì Tu sei lì Guardate intorno eh No io non l'ho più sentito Perché mi sto allontanando Sì lo sento cosa ma sta dicendo qualcosa di sensato tipo così mica mi sono cagato addosso le mano quando ci vedi qualcosa dillo si si sto salendo sulla collina occhie le mucche sono io sei una merda mi hai fatto fare un chilometro ma dove sei? no veramente adesso ti sparo uguale faccio finta di averte sentito ma dove sei? dietro alla casa rossa ah dietro? eh sapevo che eri lì infatti ho detto sentitevi in mano oh cazzo ce l'ho cagato drossa ma stardo chi è quello che ci corre incontro? è tu chi è stato? chi è questo? no tu hola io ho una ascia hello 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 ma scusa non è con noi no ma chi è? hello hello che ti fermo? ciao non è lì d'arc ce l'hai ancora la carne du mamma a te addosso? ce l'ho io ce l'ho io ce l'ho io hai ripreso grande tagliati blocca sparagli alle gambe no wait wait spargli stop stop direi che abbiamo gli diamo da mangiare alle gambe? alle gambe, alle gambe alle gambe l'ho beccato o no? no hey dude don't worry don't worry don't worry eh provato non capisco quanti cazzo predi stiamo usando oh ma cazzo sto entrando dentro la cosa don't worry be happy veda fermo manu che sennò beco te le gambe le gambe io bono sti cazzo i palazzi penso penso no no però cazzo che doveva andare sulla costa sulla strada stiamo arrivando piano piano prima faccio ammazzare questo tizio dal palazzo quello where are you m***a stare psicologico è dark sfida adesso si è di dark cerchiamo l'edificio i'm gonna fucking kill you man è morto è morto si è buttato si è buttato vai 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 dai è morto è morto inizia 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 ad ansimare nel microfono inizia arriva ragazzi carne per tutti e' sott'ora in zoni ma da fucka ma se gli uccide che tipo non dovrebbero rompere coglioni giusto ma dove cazzo sta arrivando lo zombie non sono cani che cazzo sta arrivando lo zombie che cazzo sta arrivando lo zombie ma cos'hai sparato oh ci spai la carne di zombie dita vuoi provare ma? no dove sta scivolando scusate zombie hey zombie occhio umano chiudut 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 bye bye dark ti ha fatto mangiare la carne umana non te ne sei neanche accorta nooo ah eh mi hai scritto sotto va beh ma perchè cosa fa adesso? buongiorno vediamo le si impazzesci nooo dai è appunto quello che ti stavo dicendo con il cappellino fico no 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 non dovrebbe farti niente hai il 50% di possibilità oddio vai la lotta un attenimento guarda 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 Firo guarda guarda proprio si piega dinanzi che sta fermo qua? ti hanno appena dato da mangiare da carne di merda ecco ma perché in ginocchio lo zoom? scusate dark ho un mandarino ti hai mangiato la carne umana prima come stai? bene bene è molto buono era molto buono andiamo qua sopra a fare il fuoco valò ah bisogna stare lontani dal fuoco se no ti bruci ah sono di nuovo nauseato per mettere la carne come devo fare? vai vicino fai tab ti viene fuori il ah ok ci metto la carne negli spazi giusto? si quando è che bisogna tirarla fuori? devi controllarla ci mette mi sembra anche 5-6 minuti ma se io cucino quella domana? puoi farla ma non metto guarda che è come se ci spariamo come se ma perché ci spariamo eh se ci diamo ste cose perché sennò mi faccio ma ti ammali se la cucini? io ti dico che sono di nuovo malato e non vedo più un cazzo vabbè ma perché l'hai mangiata crudo? vabbè non prendo la stampella che la stampella qua nessuno la prende ma se la vuoi prendila pure ti servirà allora io qua vedo che si stanno cucinando e sono russe quasi quando è che bisogna prenderle? eh vedi che cambiano la proprio cambia il il coloro diventa più marroncino esatto esatto comunque viene fuori la scritta cook the cob stick quindi non puoi sbagliare ah ok non posso più cecchinare perché? perché? perché un effetto della carne probabilmente il fatto che mi scatta il mouse ah si strema si no non trema ogni due secondi però tira uno scatto assurdo si si vede infatti è vero è vero maaa non l'hai vomitata in teoria? perché che cazzo sta facendo? vomitata che schifo sulla carne dai sparatevi sono di nuovo sicchia è cotta la carne ma nu vai in un angolo vai là vai oh una è cotta due sono cotte ma è sic forte ora ma ne posso prendere una? che schifo oh cristo oh cristo ve l'avevo detto orco è inquietantissimo no manu ma io non gioco ho paura matex te l'avevo detto io è inquietantissimo è inquietantissimo hai mangiato manu la carne? no no la metti per terro non mangio più carne ora divento vegano proviamo a cambiare server così facciamo di nuovo la cosa del rottamaio e dei cosi dai no c'è ma allora se lo chiamo oggi il server eh mettiamo nel ristorante qua eh ci sono un po' di canzio io provo fra un salto perché eh vabbè ovviamente mi cresce il gioco non è un po' di canzio è un po' di canzio e non è un po' di canzio e non è un po' di canzio Grazie a tutti.